Ciao, voglio parlare in questo video delle tre decisioni fondamentali della vita. La prima decisione su cui devi soffermarti è stabilire con precisione quali sono i tuoi valori. Un valore è che cosa per te è importante. Devi stabilirlo, perché se non hai la consapevolezza di quali che sono i tuoi valori, e quindi di ciò che per te è veramente importante nella vita, non riuscirai mai a perseguire questo obiettivo. Quindi se per te è più importante la famiglia, piuttosto che il lavoro, piuttosto che qualunque cosa, però l'importante è che tu ne abbia la consapevolezza, che te ne renda conto e che lo metabolizzi su di te, in modo tale da averne piena consapevolezza. In questo modo puoi passare al punto due, decidere su cosa focalizzarti, e lasciare andare tutte le cose che non sono allineate ai tuoi valori. Mentre invece valorizzare, dare importanza, promuovere tutto ciò che è allineato ai tuoi valori, questo è fondamentale, questa decisione è fondamentale. E poi un'altra parte, un'altra decisione importante, è decidere quali azioni fare per allinearsi con i propri valori, con il proprio modo di percepire la vita, con il proprio modo di essere. Queste tre decisioni non devono essere prese superficialmente, queste tre azioni, queste tre decisioni fondamentali della tua vita devi metabolizzarle. Sono molto importanti perché da esse dipenderà l'andamento che andrà nella tua vita. Ovviamente è tutto con un distacco del risultato, ma i tuoi valori, i tuoi sogni, le cose importanti, non devi rinunciarci. E soprattutto non devi rinunciare alla capacità di sognare. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!